Non sono certo venuto a cantare vittoria, il ridimensionamento è stato notevole, c'è stato, diciamo che è parzialmente mitigato dal risultato del referendum su cui contavamo molto e che è andato come speravamo, però obiettivamente rileviamo questa recessione del Movimento 5 Stelle un po' in tutta la regione, fatto salvo forse proprio della provincia di Pesaro, dove sostanzialmente abbiamo tenuto. Perché abbiamo tenuto? Io faccio una riflessione semplice, secondo me gli elettori sanno bene che cosa stanno facendo i loro portavoci e i portavoci di Pesaro e di Fano, che sono le città più importanti, sono quelli che hanno prodotto più atti, che hanno prodotto più risultati, che hanno prodotto più politica seria. Questa è stata parzialmente premiata dagli elettori, che comunque hanno voluto un cambiamento. Chi vince l'elezione ha il diritto di governare, ci mancherebbe altro. A noi il compito è di ricostruire una situazione soprattutto con la base, quella base che è stata un pochino dimenticata e soprattutto sono qui per dire che devo purtroppo lamentarmi di una condotta scellerata veramente dei vertici regionali che hanno scelto incredibilmente di escludere Pesaro dalla campagna elettorale. Abbiamo fatto soltanto un paio di uscite, sono stati completamente bypassati noi consiglieri, siamo stati bypassati nonostante le nostre richieste di fare delle cose e guarda caso l'unica consigliera che è stata eletta con un grande risultato è stata proprio Marta Ruggeri di Fano, che è stata l'unica che noi abbiamo sostenuto. Abbiamo deciso di sostenere solo lei perché gli altri in lista non ci rappresentavano, erano delle persone che sono arrivate all'ultimo momento, dei pervenuti della politica o persone che comunque hanno sempre sviluppato una politica contraria alla costa e alla città di Pesaro. Noi non ci stiamo, porteremo avanti le nostre idee, le abbiamo dette a gran voce, questa politica collaborativa e dialogante andrà avanti perché il risultato ci dà ragione. Grazie a tutti.